Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Parliamo di cronaca partendo da Montelepre, nel Palermitano, dove i carabinieri hanno individuato i responsabili del danneggiamento del locale centro sportivo. Si tratta di tre giovanissimi che sono stati ovviamente denunciati. I carabinieri della compagnia di Partinico, dopo una rapida indagine, hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni tre giovanissimi che lo scorso mese di agosto si sarebbero introdotti all'interno del centro sportivo Dompino Puglisi di Contrada Presti a Montelepre, danneggiando gli infissi, le vetrate, i servizi igienici e l'impianto elettrico. A denunciare l'accaduto era stato il sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, attraverso un post sui social. Probabilmente, aveva scritto il primo cittadino, la sera di venerdì 11 agosto alcuni delinquenti, debociati, incivili e senza dignità, hanno scavalcato il perimetro del centro sportivo con l'intento e il gusto di distruggere parte dei locali e spogliatoi a servizio dei campi da tennis. Gli operai del comune, addetti alla pulizia del centro, hanno scoperto la devastazione informando gli uffici. Sono stato dai carabinieri a denunciare tutto, aveva aggiunto il sindaco, con la speranza che le indagini possano portare a individuare gli indegni di turno. Come detto, i responsabili sono stati identificati dai carabinieri della compagnia di Partinico e denunciati. A Mirabella, in Baccari, nella Catanese, un 33enne è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, infatti, aveva aggredito la compagna e l'aveva fatto, tra l'altro, davanti a tre bambini. I carabinieri della stazione di Mirabella, in Baccari, hanno tratto in arresto un 33enne del posto perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia in danno della compagna. L'ultimo episodio di violenza è avvenuto in presenza dei tre figli minorenni della vittima, di 7, 5 e 3 anni, i quali hanno assistito all'aggressione che si è verificata nella loro abitazione. I militari dell'arma sono intervenuti a seguito della richiesta d'aiuto avanzata dalla donna che ha contattato direttamente la locale caserma, spiegando, con la voce singhiozzante per il pianto, di essere stata aggredita dal compagno. I carabinieri si sono recati nell'abitazione segnalata, al cui interno hanno trovato la donna seduta su un divano del soggiorno che stringeva tra le braccia i tre figli, mentre la 33enne ancora inveiva contro di lei nonostante l'arrivo delle forze dell'ordine. I militari hanno innanzitutto tentato di ricondurre alla calma l'uomo, contestualmente hanno ascoltato la vittima, che ancora recava sul collo e sulla guancia i segni della violenza subita. La donna ha raccontato agli operanti di avere avuto l'ennesima discussione con il compagno a causa della cura degli affari domestici. Il litigio è degenerato e il compagno l'avrebbe dapprima aggredita verbalmente, per poi passare alle mani alla presenza dei tre bambini. Con fatica i carabinieri sono riusciti a ricondurre il giovane alla ragione, nonostante la loro presenza continuava a offendere la compagna, per poi sferrare un pugno contro una porta di legno. La donna, una volta tranquillizzatasi, ha riferito ai militari dell'arma di una relazione costellata di aggressioni da parte dell'uomo, il quale è stato trasferito nel carcere di Caltagirone a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, disponendo successivamente il regime dei domiciliari. Un ventenne è stato invece arrestato dai carabinieri a Paternò, siamo sempre nel Catanese. Le accuse per lui sono di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno tratto in arresto un ventenne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione. L'equipaggio della radiomobile, nel corso di un servizio finalizzato al controllo domiciliare delle persone soggette a restrizioni della libertà personale, si era recato nell'abitazione del giovane in pieno centro cittadino. I carabinieri hanno constatato che il ventenne stava violando l'obbligo di non uscire di casa dalle ore 20 alle 8. Il giovane, sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonostante i carabinieri avessero da poco lasciato il suo appartamento, ha incautamente violato il divieto di uscire dall'abitazione, convinto che i militari si fossero già allontanati. E' rimasto a dir poco sorpreso quando, appena fuori dalla traversa di residenza, si rietrovati davanti che lo aspettavano poiché consapevoli del fatto che, come in passato già accaduto, sarebbe probabilmente ancora evaso. Inutili e fantasiose le giustificazioni adotte dal ventenne ed immediata da parte dei carabinieri, è scattata l'ispezione dei locali della sua abitazione, all'interno della quale, in un contenitore posto sul comò della stanza da letto, i militari hanno rinvenuto tre dosi di cocaina già singolarmente confezionate per la vendita al minuto, un involucro contenente circa due grammi di marijuana, nonché la somma di quasi mille euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Un arresto per spaccio di stupefacenti anche a Siracusa. In questo caso si tratta davvero di un giovanissimo pusher, un diciottenne che i carabinieri hanno trovato in possesso di droga, pronta per essere spacciata. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa hanno arrestato un diciottenne per detenzione di droga. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i militari dell'arma hanno rinvenuto circa 13 grammi di sostanze stupefacenti. Nello specifico, 16 dosi di hashish, 4 di marijuana e 3 di cocaina, droghe che il giovane occultava nel borsello, unitamente alla somma di 44 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Presso la sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 63 grammi tra marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di un tema molto importante, ovvero la sicurezza sui luoghi dei lavori. Parliamo nello specifico di un concorso che premia le soluzioni innovative più efficaci per cercare di risolvere il problema all'interno dei cantieri. Vediamo di che si tratta. Premiare le soluzioni innovative più efficaci in tema di salute e sicurezza all'interno dei cantieri. Con questo obiettivo è stata indetta la seconda edizione del concorso Buone Pratiche in Edilizia nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione nel settore delle costruzioni il cui coordinamento è stato affidato alla regione siciliana. L'iniziativa nasce, come altre previste dal programma, dalla collaborazione tra INAIL e Gruppo Tecnico Interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in virtù di un accordo stipulato tra Istituto, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e Ministero della Salute. Secondo i dati INAIL, da gennaio a giugno 2023 in Sicilia sono stati denunciati 12.384 infortuni dei quali 26 mortali. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati rispettivamente 18.437 e 30. I fatti di cronaca e i dati INAIL seppur in lieve calo ha dichiarato l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo consegnano uno scenario che impone a noi come istituzioni e al sistema sanitario regionale nel suo complesso di andare avanti in maniera sempre più incisiva con programmi e attività di prevenzione. Non possiamo dunque che promuovere con convinzione iniziative che permettano di condividere buone pratiche e conoscenze nel campo della sicurezza sul lavoro come d'altronde è previsto nei piani di prevenzione nazionale e regionale che contengono al loro interno specifiche linee strategiche per il settore edilizio ha concluso l'assessore. Al concorso in collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri possono partecipare imprese, professionisti ed enti pubblici del comparto delle costruzioni. I progetti candidati dovranno proporre procedure e soluzioni originali che permettano di ridurre i rischi nei cantieri migliorando le condizioni di salute e la sicurezza dei lavoratori. Come nel concorso precedente gli elaborati premiati faranno parte di un archivio con l'obiettivo di condividere le pratiche più efficaci e allo stesso tempo accessibili. Per ogni categoria potranno essere premiati fino a tre progetti con un monte premi complessivo di 24.000 euro. Parliamo invece di sport con la regione che finanzia 6.000 voucher destinati ai tanti giovani che svolgono attività sportive e che appartengono a nuclei familiari con basso reddito. Il servizio. Saranno 6.000 i ragazzi siciliani di età compresa tra i 6 e i 16 anni che beneficeranno del voucher di 50 euro al mese concesso per la pratica sportiva istituito dalla regione siciliana con l'ultima legge di stabilità. È stato firmato il decreto dell'assessorato regionale dello sport che impegna per quest'anno la somma di 1,3 milioni a valere del Fondo regionale per lo sport. La misura, fortemente voluta dal presidente della regione Renato Schifani è destinata ai giovani fino ai 16 anni di età che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con i sé non superiore a 12.000 euro annui. Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal CONI oppure dal Comitato Italiano Paralimpico. È stata finalizzata la quasi totalità delle richieste arrivate all'assessorato regionale dello sport dopo la pubblicazione del bando nei primi giorni dello scorso mese di agosto. I voucher copriranno gli ultimi quattro mesi di quest'anno. Il grande riscontro ottenuto dalla misura ha dichiarato il presidente della regione siciliana Renato Schifani dimostra che l'iniziativa del governo era giusta e va incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti con figli che praticano sport. Sono particolarmente soddisfatto ha aggiunto il governatore perché al di là degli aspetti legati alla tutela della salute dei nostri ragazzi lo sport è uno straordinario veicolo di inclusione sociale toglie i giovani dalla strada promuove le relazioni interpersonali e diffonde valori sani che si riflettono nella crescita personale di quelli che saranno i cittadini di domani. Sono davvero orgogliosa ha invece affermato l'assessore regionale allo sport Elvira Amata del risultato che conferma l'efficacia della norma uno strumento che contribuisce ad agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse e che concorre a scongiurare l'afforzato abbandono della pratica motoria dei minori. A conferma dei risultati ottenuti ha aggiunto l'assessore ho proposto nella prossima legge di bilancio lo stanziamento triennale della Fondo regionale per lo sport per garantire continuità e stabilità all'esercizio dello sport da parte dei minori destinatari dei voucher. Chiudiamo con un'intervista del nostro Mauro Romano a un'artista locale una cantante siamo a Taormina che ci parla dei suoi progetti futuri. Siamo con Federica Ranieri cantante che ha delle attività da svolgere in futuro ecco quali sono le prospettive per la sua attività visto che lei è molto appassionata del canto. Dunque allora le mie prospettive future innanzitutto ad ottobre vado a Roma Music Festival mi esibirò col mio inedito Un sorriso d'amore dedicato a mio papà direttore Amedeo Minghi ci sarà con la speranza che questo insomma Roma Music Festival mi porti a qualcosa di buono poi insomma dovrò fare anche degli inediti nuovi dovrò fare il cd relativo ai miei pezzi inediti e poi chissà insomma voglio aspirare sempre più al meglio ecco questo sicuramente nel canto sempre più al meglio non mi arrenderò. Ha parlato di questo suo inedito che è dedicato Un sorriso d'amore che è dedicato a suo papà ecco qual è il tema di questo inedito? Allora Un sorriso d'amore parla un po' del rapporto che io avevo con mio padre del rapporto stretto d'amore che io avevo con lui perché io con lui avevo un rapporto particolare un rapporto speciale questo quindi diciamo una dichiarazione d'amore nei confronti di suo papà sì dichiarazione d'amore sì oltre a questo ha altri altri pezzi che presenterà ecco Quando l'anima nel Roma Music Festival presenterò questo e poi un pezzo relativo a Mighi lo ricanterò io una cover vuole dare un accenno del suo inedito così una cosa brevissima e allora cantarlo sì 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 un accenno così per i nostri spettatori sarà quello del tuo sorriso d'amore un tuo abbraccio una battuta scherzosa riempivan di gioia i miei giorni la positività che mi scatenavi si chiama sicurezza infinita grazie bellissimo e in bocca al lupo grazie credito ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia di Spazio Notizia